La questione meridionale e di infiltrazione profonda della corruzione e delle mafie all'interno dello Stato e in tutte le sue articolazioni. Napoli invece vuole dare un messaggio diverso, non che qua non ci sia camorra e non ci siano anche episodi di corruzione, ma Napoli è schierata in prima linea con la parte migliore della città che è la stragrande maggioranza, con l'amministrazione comunale contro mafie, corruzioni e per il riscatto che parta dal basso come si può vedere in questi mesi e in questi anni dai territori e dal popolo. Non conosco l'indagine, non conosco i motivi per cui egli abbia deciso di autosospendersi.